Presentato a Napoli il parking station hub di sosta interscambio modale capace di ospitare fino a 360 auto realizzato da grandi stazioni rail, società del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie Italiane e cofinanziate dal MIMS con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro. Alla presentazione sono intervenuti il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris. Abbiamo investimenti previsti per un miliardo e 200 milioni di euro fra noi e rete ferroviaria, abbiamo in programma l'acquisto di 220 nuovi treni, 98 li abbiamo già consegnati fra treni regionali e treni delle ferrovie, il programma continua ovviamente, sono programmi che richiedono alcuni tempi per la messa in produzione soprattutto ai treni ma mi pare che stiamo davvero facendo una rivoluzione nel campo del trasporto pubblico. E a chi gli ha chiesto un giudizio sul lavoro svolto da Umberto De Gregorio, il presidente dell'EAV, De Luca ha risposto. Sta facendo un lavoro eccezionale, abbiamo ereditato l'EAV con 700 milioni di euro ai debiti e abbiamo anche ereditato una parcella di un milione e 200 mila euro che dovevamo pagare allo studio di uno che faceva l'assessore regionale e da assessore regionale si presentava gli incarichi e la solidarietà regionale. Questo è quello che abbiamo ereditato.